Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Durante la quarta puntata di Tussi Chevales, Sabrina Ferilli e Giovannino hanno messo in scena uno dei momenti più esilaranti e memorabili del programma. C'è stata infatti una parodia dell'iconico falò di confronto di Temptation Island. L'intero siparietto ha regalato al pubblico risate e momenti di suspense, giocando sulle dinamiche divertenti tra l'attrice e il suo inseparabile disturbatore. Il tutto, ovviamente, orchestrato dall'abile regia di Maria De Filippi. L'idea del falò nasce da un sogno di Giovannino, che desiderava confrontarsi con Sabrina Ferilli in pieno stile Temptation Island. Il tutto è stato ricreato nello studio di Tussi Chevales, con tanto di fuoco scenografico e atmosfera romantica. Lo show ha scimmiottato il celebre format televisivo in cui le coppie si sfidano in un confronto aperto. La scenetta ha preso una piega ironica quando sono stati mostrati alcuni video che ritraggono Sabrina nei suoi momenti più divertenti nel programma. Sono stati inoltre presentate clip in cui Giovannino appare circondato da tre tentatrici immaginarie, Sofia 1, Sofia 2 e Sofia 3. Il confronto è stato un mix di humor e teatro, dove Sabrina ha reagito con la sua solita ironia pungente. Giovannino, dal canto suo, ha giocato il ruolo del fidanzato in crisi. Il disturbatore della Ferilli ha provocato quest'ultima con scherzi e battute. La dinamica tra i due, che ormai è un tratto distintivo del programma. Ha coinvolto ancora una volta il pubblico, che ha apprezzato l'esilarante evoluzione della loro relazione artistica. Alla fine, il falò si è concluso con una riconciliazione teatrale, lasciando spazio a momenti di affetto che, pur nella loro comicità, hanno saputo coinvolgere anche i più scettici. A condurre la scena, come sempre impeccabile, c'era Maria De Filippi, che si è trasformata in una sorta di Filippo Bisciglia, moderando il confronto con il suo classico equilibrio tra serietà e leggerezza. Maria ha saputo mantenere viva l'attenzione dello studio, bilanciando i toni leggeri con la suspense tipica dei falò di Temptation Island. Il pubblico ha assistito a una scena surreale ma profondamente coinvolgente. Una dimostrazione di come la creatività degli autori di Tussi Chevales continui a stupire settimana dopo settimana. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.